Mazzara non consegna circa 700 kg di poste e nei cittadini postino ha denunciato dei carabinieri. Tra Apani, aeroporto Vincenzo Florio nel 2015, traffico a passeggeri lievemente in calo. Mazzara Dragaggio del Porto Canale, il sindaco Cristaldi sbotta e contraattacca. Mazzara Comando di Polizia Municipale, il DICAP striglia l'amministrazione comunale. Calcio, il Mazzara va avanti con mister Napoli a giovedì, sfida di Coppa contro la Cireale. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Mazzara hanno denunciato un dipendente delle poste per sottrazione di corrispondenze, i particolari nel servizio. In un anno non avrebbe consegnato circa 700 kg di lettere destinate ai cittadini mazzaresi, posta che l'uomo avrebbe nascosto senza aprirla presso la propria abitazione. La vicenda è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo che ieri mattina hanno denunciato a piede libero l'autorità giudiziaria a un postino di 50 anni dipendente di poste italiane. Il reato contestato all'uomo, un palermitano residente a Mazzara, FG, le sue iniziali e sottrazione di corrispondenza commessa da persona detta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Il cinquantenne avrebbe agito così durante tutto il 2015. Ieri mattina i militari dell'arma sono intervenuti a seguito di una segnalazione nei pressi di un'auto abbandonata. Attorno e dentro al mezzo i carabinieri hanno rinvenuto circa 100 kg di posta. Una volta risaliti all'identità del proprietario dell'auto i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo. A casa del cinquantenne sono stati rinvenuti ulteriori 600 kg di posta non consegnata ai legittimi destinatari. Tutta la posta rinvenuta ieri sera è stata consegnata a poste italiane che adesso dovrà recapitare le buste agli ignari cittadini. Nessuna busta è stata ritrovata aperta. Con l'accusa di ricettazione gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsalano denunciato a piede libero domenica scorsa il 36enne extracomunitario Musa Ducansi. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 20 kg di rame di probabile provenienza furtiva. La scoperta della polizia è stata fatta a seguito di una segnalazione sul terrazzo del centro d'accoglienza Giovanni XXIII, struttura nella quale l'immigrato si trova ospite dal suo arrivo in Italia. Altro rame è stato rinvenuto anche nella stanza del 36enne. E sempre la polizia di Marsala ha arrestato un 42enne con l'accusa di detenzione di droga e gli fachevolari nel servizio. Un marsalese è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Marsala. Si tratta del 42enne Antonino Bertolino, pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato a seguito di un'indagine portata a termine dalla squadra investigativa del commissariato Lili Betano. Attraverso appostamenti e pedinamenti, i poliziotti hanno notato strani movimenti di giovani nei pressi dell'abitazione del 42enne. Durante un controllo nell'abitazione di Bertolino, gli agenti hanno trovato un panetto con 50 grammi circa di hashish. I poliziotti quindi hanno deciso di assendere il controllo a tutta la casa per verificare se ci fosse altra sostanza stupefacente. Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 200 grammi di marijuana e una riproduzione di pistola del tutto somigliante a una originale con il tappo rosso modificato in nero. Per il 42enne dunque è scattato l'arresto. L'autorità giudiziaria di Lili Betano, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti di Bertolino la misura cautelare degli arresti domiciliari. Non è più interdetta l'aria interessata dalla rimozione delle torri faro al porto di Mazzara. Lo ha ressonato oggi la locale capitaneria di Porto tramite un'ordinanza. La decisione è scaturita ad avvenire meno nel pericolo connesso alle deficienze strutturali. Vigili urbani di Mazzara si registra oggi una nota del sindacato di Icap, i particolari nel servizio. Fare i puntati sul comando di Polizia Municipale di Mazzara del Vallo. Ad accenderli è stato il coordinatore provinciale del sindacato di Icap, Donato Giglio, attraverso una dura nota inviata ieri al sindaco Nicola Cristaldi. Nel merino del sindacalista sono finite alcune situazioni che interessano i vigili urbani della città del Satiro a partire dalla recente rimozione dell'ex comandante della Polizia Municipale, Claudio Zummo, destinato ad altro incarico all'interno di Palazzo dei Carmelitani. Una decisione che ha portato all'individuazione di un comandante facente funzioni, l'ispettore Filippo Passanante, in attesa che vengano espletate le procedure di mobilità esterna per l'individuazione del nuovo numero uno del comando di via Besserione. Ebbene, l'operato dell'amministrazione avrebbe, secondo Giglio, mortificato i componenti del comando mazzarese, adottando una soluzione tampone che non sarebbe certamente la migliore. Il segretario del DICAP attacca anche su altri fronti, come quello del pagamento del salario accessorio ai vigili. Per Giglio, infatti, il Comune non starebbe rispettando gli impegni assunti tempo addietro nel corso di una riunione tenutasi in Prefettura a Trapani, così come non starebbe onorando il pagamento degli emolumenti previsti dal cosiddetto piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di pulizia municipale. Osservazioni, insomma, che hanno spinto Giglio a chiedere la convocazione della cosiddetta delegazione trattante al fine di affrontare e cercare di risolvere tali problematiche. All'ospedale Paolo Borsellino di Marsale è stato eseguito per la prima volta un intervento chirurgico di stereotonia radicale laparoscopica per un tumore dell'utero. L'intervento chirurgico mini-invasivo è stato eseguito con successo su una paziente di 60 anni. L'equip è stata guidata dal dottor Angelo Caradon, direttore dell'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito. La paziente, già in prima giornata post-operatoria, si è alzata e ha ripreso l'alimentazione orale. Il catetere urinario è stato rimosso. In terza giornata post-operatoria è stata dimessa. Passeggeri lieve Calom nel 2015 all'aeroporto di Birgi. Sentiamo. Per l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani il 2015 si è chiuso con un numero di passeggeri in transito leggermente in calo rispetto a quello registrato nell'anno precedente. Secondo i dati pubblicati sul sito internet di Airgest, la società che gestisce lo scalo del capoluogo, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 dall'aerostazione sono transitati 1.586.992 passeggeri con un lieve decremento dello 0,72% rispetto ai viaggiatori del 2014 che sono stati 1.598.571. Un risultato praticamente identico. I passeggeri in meno sono stati circa 12.000 ottenuto nonostante il numero dei movimenti presso l'aeroporto trapanese sia diminuito invece dal 7,41% passando dai 12.536 voli del 2014 agli 11.607 del 2015. Per il Vincenzo Florio si tratta del secondo calo annuo consecutivo visto e considerato che il picco di passeggeri transitati si è registrato nel 2013 con 1.878.557 persone atterrate o partite dallo scalo gestito da Airgest. L'augurio è che nel 2016 l'aeroporto torni a crescere dal punto di vista numerico in modo da trainare l'economia del territorio provinciale. In tal senso dovrà impegnarsi il nuovo consiglio di amministrazione della società di gestione guidato dal neopresidente Franco Giudice. Escavazione del portocanale di Mazzara del Vallo. Sulla questione è intervenuto il primo cittadino manzarese Nicola Cristalli. Nonostante ripetuti annunci circa l'indizione della gara d'appalto e il successivo affidamento dei lavori il dragaggio del portocanale di Mazzara del Vallo continua a restare ancora un miraggio per i numerosi operatori portuali e marittimi della città. Una situazione ai limiti del grottesco che ieri ha fatto sbottare anche il sindaco Nicola Cristalli che attraverso una nota ha attaccato alcuni ambientalisti locali. Coloro ovvero che nei giorni scorsi hanno organizzato una manifestazione a difesa della cosiddetta colmata B sul lungomare Fata Morgana area dove verrà scaricata parte dei fanghi che verranno rimossi dal fondo del fiume Mazzara. Il primo cittadino mazzarese ha parlato senza mezze termini di una vera e propria macchinazione in corso per cercare di ostacolare l'avvio dell'escavazione. Come se in pratica il corposo ritardo nell'avvio di un'opera tanto attesa da anni fosse causato dall'azione di tali ambientalisti. Se questi signori che si autodefiniscono ambientalisti la smetteranno di trovare scuse per ritardare l'esecuzione dei lavori il fiume Mazzaro tornerà a vivere, ha evidenziato Cristalli. Contestualmente il primo cittadino è tornato a sollecitare la regione affinché venga espletata una volta per tutte la gara d'appalto in questione. Compito che spetta, come si ricorderà al commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia a Calogerofoti. A quest'ultimo Palazzo dei Carmelitani avrebbe inviato una nota formale per chiedere notizie sull'iter burocratico. In attesa di riscontri resta sullo sfondo l'attesa degli operatori marittimi e portuali mazzaresi alle prese con sempre maggiori difficoltà e disagi legati alle difficoltà di navigazione del Mazzaro. Diverso da chi la maurezza di Don Bosco è la memoria della Shoala, disabilità e diversità tra scuola, famiglia, pedagogia, psicologia e diritto. Saranno questi temi di un convegno in programma ad Alcamo il prossimo 30 gennaio. L'incontro organizzato dall'Associazione Pedagogia Olistica Siciliana si terrà presso il centro congressi Marconi dalle 16 alle 19.30. L'evento è accreditato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Si terrà venerdì prossimo alle 17.30 presso la libreria Lettera 22 in via Garibaldi a Mazzara il corso di preparazione rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado per non dimenticare. Il corso è curato da Maria Geremidaro specializzata in letteratura per l'infanzia. Il corso vuole fornire strumenti di lavoro utili ad affrontare il tema della Shoah in classe in vista anche della giornata della memoria del 27 gennaio. Siamo allo sport, calcio, giovedì la sfida in Coppa Italia tra il Mazzara e la Cireale. Il servizio. Nessun cambio alla guida tecnica del Mazzara Calcio. Nonostante le quattro sconfitte consecutive in campionato e un ruolino di marcia da retrocessione nelle ultime sette partite del Gironi ad eccellenza, cinque sconfitte e due sole vittorie, la società giallo-blu non ha intenzione di sollevare dall'incarico mister Tommaso Napoli, chiamata a sedersi sulla panchina mazzarese a fine novembre al posto di Nicola Terranova. Il tecnico ex Licata ha la fiducia della dirigenza canarina, come peraltro confermato dal presidente Elio Abbagnato durante la trasmissione dello sport in tv di merdi scorso. Nessun cambio in vista, almeno per il momento, e nessun ritorno di Terranova sulla panchina dei canarini, come vociferato nelle ultime ore. Il Mazzara va avanti con Napoli e ha iniziato a preparare l'importante sfida contro la Cireale in programma dopodomani allo stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala, valida come finale della Coppa Italia regionale d'eccellenza. I canarini sono tornati ad allenarsi già ieri pomeriggio allo stadio di Novacara, all'indomani della sconfitta contro la San Cataldese. Stamattina invece il Mazzara si è allenato in trasferta allo stadio marsalese per iniziare a prendere confidenza con il terreno di gioco. Questo pomeriggio i giocatori avranno mezza giornata di riposo prima della rifinitura di domani. È chiaro che la sfida contro la Cireale è fondamentale per il Mazzara, per la società e per Mister Napoli. Una vittoria consentirebbe ai giallo blu di guardare al prosieguo della stagione con maggiore ottimismo, mentre una sconfitta renderebbe ancora più pesante una situazione diventata davvero insostenibile. Circa 20 ragazzi extracomunitari giunti a Trapani qualche mese fa ed ospiti al centro di prima accoglienza gestito dalla cooperativa sociale insieme saranno ospiti martedì 26 gennaio nel Trapani Calcio. I ragazzi avranno la possibilità di assistere alla seduta di allenamento presso lo stadio provinciale e di essere loro stessi protagonisti scendendo in campo a fine allenamento assieme a Mister e ai giocatori. L'iniziativa della società Granata è inserita nel programma Un giorno per la nostra città promosso dalla Lega B e dai 22 club. Il tema di questo mese è integrazione sociale globale ai vicini di casa, di qualunque coloro. In un primo momento l'iniziativa doveva svolgersi oggi ma è stata rinviata a causa del maltempo. Con questa nota siamo arrivati al termine del Tg Vallo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.